Poracci, bentornati o benvenuti su questo unboxing ricchissimo, fatto in live e poi ricaricato su YouTube dove andremo a vedere tutti i miei acquisti più recenti, ma solo quelli fatti senza un criterio. Bene, io ho detto tutto, un grazie gigantesco a Otogi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Voi, mi raccomando, supportatemi, sopportatemi, subbatevi, ma soprattutto datemi dei sordi. Bene, io ho detto tutto, inittaziamo! Iniziamo subito da, non degli acquisti, ma dei regali, perché c'è un ragazzo che mi ha contattato via email e mi ha detto, guarda, ho ritrovato un vecchio gioco Game Gear in soffitta, te lo vorrei regalare per, così, un contributo poraccio. E io gli ho detto, va bene, dai, grandissimo, cioè, bellissimo pensiero. Mi ha speduto il pacco, io mi aspettavo di trovare il gioco Game Gear, invece ho trovato tutta sta roba, è stato veramente un regalo apprezzatissimo. E vi faccio vedere subito il gioco Game Gear, perché, tra l'altro, coincidenza delle coincidenze, è il gioco di Tasmania. Questo è un titolo su cui da ragazzino ci ho perso sopra le ore e gli interi pomeriggi. Vabbè, comunque, è un regalo apprezzatissimo, perché mi ha veramente sbloccato un ricordo. È stata una coincidenza assurda, ma in più, insomma, non è stato l'unico oggetto presente all'interno del paccone, perché contiene anche una cartuccia americana di Advance Wars, il primo, bellissimo titolo, mi mancava in versione NTSC, pazzesco, regalo graditissimo, questo penso abbia anche un discreto valore, eh. E poi anche la cartuccia Lose di Ocarina of Time 3D, vabbè, capolavoro, ragazzi, assurdo. Non penso ci sia bisogno di presentarvelo. E, ancora più assurdo, c'è anche la guida strategica di Tears of the Kingdom, in edizione da collezione. Non so se questa, in realtà, è l'unica edizione disponibile, però, insomma, tanta, tanta roba. Questo è un tomo di quelli proprio che è piacevole sfogliare, anche se non si sta cercando la soluzione al gioco. E vediamo dove ha lasciato il segno. Magari c'è un messaggio rivolto a tutti i poracci. No, non c'è nulla. Si era bloccato al sacrario di Joe Hook. No, sul serio, ringrazio tantissimo il ragazzo che mi ha fatto questo regalo. Io sono sempre molto in imbarazzo quando succedono queste cose, anche perché non mi aspettavo tutta questa roba straapprezzatissima. E grazie sul serio, grazie. Quindi, andando avanti, questo, diciamo, era l'angolino della poracciata vera, perché è tutta roba che non ho pagato. Andiamo un attimo a prendere la roba, invece, current gen. Non so se voi siete all'interno del gruppo Telegram, anzi, del canale Telegram delle offerte poracce. Nell'ultima settimana vi ho segnalato un po' di cosette gustose, tra cui, anche e soprattutto, dei titoli Switch a pochissimo. Abbiamo, mi sono arrivati, No Moriros 3, vi ho aspettato per unboxarlo. Questo ho pagato circa una decina di euro. Pallita e poi anche Chris Tales, che è un indie, un JRPG indie che sfrutta le dinamiche del time travel. Anche questo ho pagato forse proprio 10 euro. Questo lo provai su Game Pass, non mi fece impazzire, eh, devo essere sincero. Però poi ritrovarsi un gioco fisico per Switch ha sempre il suo fascino. Vivi il passato, il presente e il futuro, contemporaneamente in questo tributo ai classici JRPG. Comodissimo farlo così. Yes. Abbiamo giochi realizzati in tutto il mondo. Chi ha fatto il mio gioco? Come puoi sostenerli? Carino, carino. Ci sono anche gli altri titoli fatti o dallo stesso publisher o dagli stessi sviluppatori. Carina come idea. E poi, se non sbaglio, sì, abbiamo un posterone. Oh, per 10 euro, ragazzi. Qualcuno direbbe meglio di un calcio in bocca. Non è double fast? Carino, carino. Ci sta. Questo me lo appendo in cameretta di sicuro. E poi oltre a questo, vabbè, c'è la cartuccia di gioco. Più di quanto mi sarei aspettato, ragazzi. Per 10 euro, profit vero. Poi unboxiamo invece No Mori Rose 3. Sapete che i primi due sono usciti in edizione fisica, ma solo per Limited Run Games, oppure solo per il mercato giapponese? Questa cosa mi rende molto triste. Infatti, su Switch ce li ho digitali. Strippiamo la strip. Non c'ho voglia di lavorare a chi lo dici. Beh, se non altro, è una bella cover double fast, con anche poi una cartuccia che ricorda, forse, cioè una cover che ricorda le cartucce dell'Atari. Forse Atari? Forse sto dicendo una castroneria. Però, vi devo dire, non vedo l'ora di giocarlo, perché è un titolo che avevo in canna di recuperare da parecchio tempo. Ora che te lo tirano dietro, forse ci sarebbe stato meglio prenderlo su PlayStation 5, perché gira un pochino meglio, soprattutto all'open world, da quanto ho capito, va a 3 frame al secondo. Però, 10 euro. E poi comunque la collezione di Switch ha tutto un altro sapor. Quindi andiamo di Wii U, tanto c'è non tantissima roba. Abbiamo solo una cosa sealed che rimarrà tale, e ora vi spiego anche perché. Tra l'altro, se mi seguite su Instagram, già sapete, perché vi aggiorno stradafacendo con tutto quello che succede all'interno della mia collezione per quanto riguarda Wii U e PlayStation 1. Comunque, primo recuperino, ino, 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 abbiamo la versione fisica di Star Fox Guard Pal Ita. Eccola qua. Che rimarrà sealed perché, l'avete visto il video sul collezionismo Wii U, ora vi interrogo. Se l'avete visto, avrete appreso, magari già sapevate, ma vi avrò ricordato che questo gioco era uno spin-off di Star Fox Zero, che è una sorta di Tower Defense, e veniva venduto all'interno della First Print Edition. Che succedeva però? Che questo qua arrivava in una confezione su disco, che però era PAL Multi, perché le Limited di Nintendo, dal Wii U in poi, ma anche prima, già dall'era Wii, sono, per il solo europeo, sono tutte quante uguali, tranne per il codice a barre con il triangolino, eccetera, eccetera. Però, sostanzialmente, sono multilingua. Quindi, anche questo arrivava sul disco in versione multilingua, però poi è stato rivenduto come titolo stand-alone, che potevi acquistare senza bisogno di acquistare la First Print Edition, e questo arrivava in una versione PAL Ita Triangolo Blu. Vedete? Solo che, c'era la fregatura, si trattava non di un gioco, ma di un codice di download. Questo significa che adesso, con la chiusura dell'eShop, il codice che c'è dentro è totalmente inutile e il titolo non si può più riscattare. Quindi, non lo so, mi piaceva averlo per il fatto del triangolo blu. Potrebbe, chissà, magari diventare una versione rara, totalmente inutile al momento. Però, per ora te lo diranno dietro, ho pagato meno di 10€ spese di spedizione incluse. Poi, vi ho fatto vedere che ho recuperato una copia di SteamWorld Heist e SteamWorld Dig, racchiusi all'interno della SteamWorld Collection, e questa qua è praticamente uno dei due titoli usciti all'interno della Nintendo eShop Selex, questa collana che era una via di mezzo tra i Select, ovvero le edizioni economiche, e invece delle stampe uniche, perché in realtà non si tratta di una reedizione, ma si tratta di un gioco che esisteva solo in versione digitale, ma ha venduto abbastanza bene da convincere Nintendo a farne un'edizione fisica all'interno di questa collana. L'unico altro gioco che è stato stampato sotto questa etichetta è stato Fast Racing Neo, che tra l'altro poi è stato anche remeccato per Switch. Questa è una collection di due SteamWorld, di due dei tantissimi SteamWorld, abbiamo l'originale, che è il Dig, e poi l'Heist, che invece è quello tattico, insomma più tipo RPG tattico. Ho giocato solo il Dig io, so che anche Heist è molto molto interessante, sono considerati tutti e due dei gioconi. Presto recupererò, penso, anche Fast Racing Neo. Li conoscevate questi? Io comunque li faccio vedere tutti quanti su Instagram, e poi metto le storie in evidenza, quindi in caso recuperatele in là. Do anche qualche chicca, insomma, sul collezionismo. Quindi in caso recuperatele in là. Poi abbiamo due recuperi fatti in due momenti diversi, ma che sono... vanno a coppia, vanno di pari passo. Abbiamo i due zeldoni per Wii U, ma non i due zeldoni qualunque, i due zeldoni PAL ITA. Dentro mi sembra non ci sia niente, degno di nota. Infatti abbiamo solo dischettone e avvertenze. Qualche flyer. Dischettone e flyer. Tra l'altro, l'avete visto, sempre se avete visto il video sul collezionismo Wii U, io in realtà di Wind Waker ho già la Collector's Edition, quella con la figure di Ganondorf, però mi triggerava tantissimo il fatto che era in versione PAL multi, mentre questa qua è PAL ITA, quindi triangolo blu. e vale il discorso che vi ho fatto già nel video dedicato al collezionismo Wii U, ovvero le Limited Edition, Collector's Edition, come l'hanno chiamata in questo caso, costano effettivamente tanto, però si trovano. Se volete investire quei 150, 200 o anche di più nel caso di Wind Waker, prendete e pagate. Le versioni PAL ITA costano di meno, perché costano di meno, le versioni lisce PAL ITA, ma sono più rare, non si trovano. Non si trovano tutti i giorni e con estrema facilità e stanno salendo sempre più di prezzo. Quindi ho detto, vabbè, facciamo questo piccolo investimento, in realtà me la sono cavata abbastanza tranquillamente, ho avuto due belle botte di cubo. A questo punto mi manca soltanto Collector's di Twilight Princess HD, che vi ricordo ha una fiera del retro gaming di 3-4 anni fa, 2020-2021, mi fu offerta a 50 euro e io rifiutai. Mortacci mia, come si dice in questi casi. Adesso passiamo alla roba PlayStation 1. Avete visto? Ho iniziato questo progetto mastodontico del PlayStation 1 Nostalgia Full Set, che non è un full set vero e proprio, ma è un full set dei titoli che mi ricordo di aver giocato, o che in un modo o nell'altro mi affascinavano. E dietro ognuno di questi titoli c'è una storia che ricordo nettamente, e ora vi dirò brevemente quali sono i miei ricordi legati a questi giochi. Vi farò vedere, infatti, prima la pila dei titoli che ho recuperato in autonomia, e si tratta di giochi non famosi, non ricercati, ma che appunto hanno un bel valore affettivo. E poi vi mostrerò invece tutto quello che mi è stato inviato da Domenico di Otogi Retro Games, che là invece abbiamo puntato a recuperare roba di un certo valore, in determinate condizioni, e quindi roba da collezionisti veri. Vi faccio vedere un po' di roba. Di Sheep probabilmente ve ne ho parlato abbastanza recentemente, forse proprio su Instagram. Questo qua è un gioco che mi ricordo affittai, soltanto perché non c'era nient'altro da affittare al videonoleggio, pensando, madonna, sto gioco sarà uno schifo, perché mi sembrava troppo per bambini piccoli, ok? In realtà ne esce fuori un gioco tipo Lemmings, che non era affatto male, soprattutto c'aveva una bella ironia dietro. Potete vedere anche l'art style, è molto simpatico, è molto divertente. Bisognava riportare all'ovile in ogni livello tutte queste pecore, cercando di farne morire il meno possibile. Era un incrocio tra Oddworld, praticamente, e Lemmings, però la grafica era un mix tra 2D e 3D, no, forse era unicamente 2D, sapete? Quindi anche quello, secondo me, pagava un po' l'impatto che c'era. Però, nel senso, non era uno di quei titoli che dice, da adulti, sembra vero, futuristico, però le cutscene renderizzate erano fighe. Quindi è un titolo che alla fine mi divertì, poi me ne dimenticai completamente, e adesso che mi sono fatto la lista di titoli che voglio recuperare assolutamente per la prima PlayStation, c'era di mezzo anche Ship, che non costa nulla proprio. Poi, ragazzi, qui abbiamo proprio... Allora, se qualcuno di voi lo conosce, lo abbraccio virtualmente, perché io non ci credo che qualcun altro si ricordi di questo titolo, probabilmente neanche gli sviluppatori, ok? Abbiamo Rushdown, fatto da Canal Plus Multimedia, canale francese, e questo qua era un gioco sportivo che univa tre diversi sport estremi. Vedo se riesco a leggere al contrario. Il videogioco di sport estremi più reale e veloce mai realizzato finora. Potrai sfidare in... No, non riesco a leggere. In cinque continenti, grandi campioni di kayak, snowboard, mountain bike. Rushdown, la sfida all'estremo. Mai visto. Ecco, allora, in realtà, anch'io questo non l'avevo mai visto. Oh, questo purtroppo ha i dentini spaccati. Anch'io non l'avevo mai visto, ma vi spiego perché me lo ricordo questo gioco. perché praticamente all'epoca si andava alle bancarelle dei giochi masterizzati, ok? Questo c'è anche il libretto, ovviamente. Come, diciamo, regola aurea, mi sto dando versioni PAL multi o PAL ITA dove possibile. CD e custodia devono essere in condizioni accettabili, ma le custodie, purtroppo, PlayStation 1 tendono a rompersi tantissimo, quindi non è una priorità. Però ci deve essere il manuale. Quello sì. Questo è il manuale PAL multi. Comunque, si andava, ragazzi, ad affittare i giochi. E io volevo troppo un gioco che stavo tenendo d'occhio da anni proprio, da mesi, che era Cool Borders 3. Quello ve lo ricordate sicuramente, tra l'altro c'era in collezione, che era un gioco di snowboard fighissimo. comprai una copia tarocca di Cool Borders 3, avviai il gioco e mi ritrovai un titolo che non mi ricordavo solamente, si chiamava Rushdown. C'erano masterizzato dentro questo Rushdown, che in realtà era il Cool Borders dei Poracci, però univa, oltre allo snowboard, anche la mountain bike e la canoa, il kayak o kayak, che non so come si dice. Me lo fece andà bene. Mi ricordo che ci giocai tantissimo, mi piacque anche parecchio, però mi rimasi sempre un po' l'amaro in bocca del... Ma che mi hanno isolato? Sì, risposta sì, mi hanno isolato. Però adesso finalmente posso dire di avere Rushdown originale in collezione e forse sono l'unico al mondo che può dirlo. Poi, scavando sempre nella memory lane, abbiamo questo forse qualcuno tra i più attempati tra di voi, vorrebbe ricordarselo. Abbiamo Reboot. Reboot. Allora, io mi ricordo di Reboot perché era una serie in computer grafica, tipo anime però in computer grafica, che davano su solletico, se non sbaglio. Comunque lo guardavo sulla Rai. Per l'epoca era tipo una cosa, oddio, sembra vero, è fatta al computer, è impressionante, incredibile. Rivederlo oggi probabilmente sarebbe traumatico. E ci fecero anche il videogioco. Ora, non chiedetemi perché, non chiedetemi per come, ma ricordo che lo giocavo a casa del mio migliore amico, solo che avevamo la versione o giapponese o americana. e lui aveva la prima PlayStation tarocca, che però, non so perché, quando la collegavi alla televisione, le immagini si vedevano, ma se erano giochi NTSC, si vedevano in bianco e nero. Quindi, io e il mio migliore amico giocavamo a Reboot su PlayStation 1 in bianco e nero, non capendoci nulla della storia, perché era tutto in inglese. Era la versione americana, sì. Tra l'altro, non mi ricordo, era tutto su questo hoverboard del protagonista, i controlli erano un casino, e poi in ogni livello c'era il timer, che metteva un'ansia clamorosa. E niente, quindi ho dei ricordi confusissimi. Però ora, finalmente, non solo ce l'ho originale, ma potrò vederlo a colori. Sarà come giocarlo per la prima volta. Poi, invece, all'epoca, c'era un brand fortissimo, che era quello delle Micro Machine, che se vogliamo poi, videoludicamente, è stato soppiantato da... Prima da Revolt, poi dalle Hot Wheels, per fare qualche nome. Però, secondo me, il vero gioco divertente di... Corse cazzone, corse in miniatura, su PlayStation 1, era Circuit Breakers. Titolo su cui ho passato, non avete idea di quanto tempo ho passato, su questo titolo. Anche Micro Machine V3 era una bomba. Però Circuit Breakers, ragazzi, secondo me, se vi andate a vedere il gameplay, qualcuno di voi magari l'ha pure giocato, perché era uno di quei titoli che stava in tutte le collezioni di giochi tarocchi dell'epoca. C'era questa cosa dei power-up, delle spinte che mandavi in continuazione fuori pista e di sotto gli avversari. Era proprio divertente, ragazzi. Poi con sta visuale dall'alto. Questo c'è, me lo rigioco proprio volentieri, ma tantissimi. Poi, ve l'ho fatto vedere, in un reel abbiamo... Epocale, proprio epocale. In questo vorremmo fare addirittura un gameplay. Heart of Darkness, Pal Ita, PlayStation 1. L'avete visto il reel, no? Dove vi faccio allo shorts, dipende dove... dove bazzicate, se più YouTube o più Instagram. Abbiamo il manuale di istruzioni. Anche questo non è tenuto benissimo, però ragazzi, si va a risparmio. Tra l'altro qui c'è un manuale che mi ricorda un po' l'impostazione di Super Mario 64, nella spiegazione di tutti quanti i comandi. Abbiamo pure gli occhialetti 3D. Aspettate. Ora finalmente, vi vedo per quello che siete. E poi abbiamo doppio disco. Questa era una cosa che succedeva molto spesso quando c'erano giochi con tante cutscene filmati, doppiaggio, eccetera, eccetera, perché occupavano spazio. Banalmente. E quindi c'era bisogno di... Un disco solo non bastava e toccava mettere... toccava mettere i secondi dischi per un gioco e poi alla fine durava pure relativamente poco, come tutti i cinematic platform. Durava tanto perché si moriva in continuazione, ma in realtà la storia era abbastanza... Dalla durata abbastanza contenuta. Ecco, mettiamola così. Anche questo ve l'ho fatto vedere. Sono orgogliosissimo di questo. Abbiamo il Clickworker giapponese. Clickworkers. Clickmedic. Tanto, chi potrà mai dire che si chiama Clickmedic e non Clickworker? Magari, leggendo la costina. Titolo uscito esclusivamente in Giappone, ma che in realtà è il precursore di Pokémon, ragazzi. Escutiva PlayStation 1 fatto da Game Freak. Ci ho fatto un bellissimo video sopra che non si è inculato nessuno. Questa cosa mi mette una tristezza addosso incredibile. Però mi sono sentito in dovere di acquistare questa perla, questa Hidden Gem. Tra l'altro, anche nel manuale potete vedere una Proto Misty. Non c'entra niente con Pokémon, però ci sono molti design che ricordano la prima generazione di mostriciattoli tascabili. E infatti uscì o in contemporanea al primo Pokémon o leggermente dopo, insomma. Però, insomma, proprio in quegli anni. Tra l'altro, ragazzi, completissimo di tutto. C'è anche la Spine Card, fondamentale per i prodotti giapponesi. E ovviamente poi abbiamo il disco di gioco. Questo è stato un acquisto davvero collezionista. Per chi non sa il giapponese è inavvicinabile e non penso esistano traduzioni. Poi abbiamo un titolo che non ho mai giocato ma che vedevo sempre la copertina e pensavo questo gioco deve essere bruttissimo. Deve essere bruttissimo e secondo me è una di quelle copertine che pure voi ce l'avete in testa, l'avete vista da qualche parte. Qualche settimana fa, se non addirittura un mesetto fa, mi stavo aggirando per YouTube e ho trovato una retrospettiva su questo Wild 9. e ho scoperto essere in realtà una hidden gem PlayStation e viene definito come uno dei migliori action platform per la console che però nessuno conosce. Quindi siccome veramente nessuno conosce e nessuno vuole perché te lo tirano dietro ho detto ma sai che c'è? Questo qua ce lo recuperiamo e magari gli diamo anche una chance e capiamo bene di cosa si tratta. Quindi questo diciamo c'era la nostalgia del fatto di averlo ignorato sempre e di averlo schifato a prescindere ma come dice il detto mai giudicare un gioco dalla sua costina. Giusto? Sopra spagnolo al centro italiano e sotto olandese. Sono le scelte e distribuzioni proprio incomprensibili. E poi abbiamo un altro titolo che non ho mai giocato ma non perché lo schifassi ma perché mi terrorizzava ragazzi. mi terrorizzava c'era questa cover che mi faceva paura da bambino ma tantissimo e ho preso il coraggio a quattro mani ho preso anche il portafogli e ho comprato una copia di Spider mortacci sua sta copertina che cazzo di ansia che mi metteva addosso proprio mi spaventava tantissimo cioè ragazzi un ragno merdosissimo che c'ha pure un coltello e una pistola cioè ma che siamo matti in realtà poi vai a vedere si tratta di un platform con una grafica pure coloratissima si c'ha il ragnetto ma insomma vuoi mettere qua sembra un horror che resentivo lo spostate proprio e invece poi è un po' è un po' una cosa molto diversa cioè il manuale ragazzi è una bibbia l'unica cosa purtroppo questo qua essendo un manualetto molto corposo però l'avevano rilegato con una brossura come si dice sì vabbè comunque con la colla ci sono delle pagine che si sono staccate si stanno staccando proverò a rincollarle mio padre mi ha detto che ci si riesce quindi vi farò sapere insomma come come vanno le cose vi farò sapere e qualcuno di voi si ricorda di Spider tra l'altro c'avevo in mente di fare un reel su il vero Spider per PlayStation 1 che non è il primo Spider-Man gioco epocale ma è proprio Spider tra l'altro questa è la versione PAL ITA inglese e non è così facile recuperarla o meglio le versioni inglesi e francese si trovano molto più facilmente e ora passiamo al paccone di Otoji Retro Games che ringraziamo anche qua in live però prima vi faccio vedere quello che mi ha messo come bonus il buon Otoji allora abbiamo Only Box di Baby Life in versione tedesca questo ragazzi se volete ve lo vendo a 100.000 pleuri c'è il manuale di istruzione il gameplay sembra veramente una figata imperdibile proprio tanta roba peccato non poterlo giocare e poi invece potremo giocare magari lo portiamo in live per chissà Fashion Designer iStyle della 505 Games e tra l'altro sono italiani Pal Ita bombissima triangolo blu che più blu non si può ma questa cosa mi ha fatto troppo ridere dentro ci stanno tutti i libretti manuali istruzioni eccetera eccetera la cosa bella è che hanno fatto una cosa che si faceva negli anni 90 cioè ci sono le istruzioni francesi mode d'emploi e poi quelle italiane guida rapida stampate in bianco e nero la poracciata proprio massima di distribuzione ora i veri MIG ragazzi i veri MIG i pezzi forti PlayStation 1 partiamo un attimo andiamo in ordine di importanza ok vi spiego poi allora abbiamo il primo driver gioco iconico ma forse le nuove generazioni non lo conoscono così bene però è uno di quei titoli che ha proprio segnato l'epoca PlayStation 1 forse se non l'avete vissuta quell'epoca può essere che conosciate il gioco perché qualche anno fa forse una decina di anni fa uscirono dei video che raccontavano di come già solo il tutorial fosse di una difficoltà tremenda aberrante e provavano a farlo fare ai giocatori più sgamati all'epoca ma era difficilissimo però io me lo ricordo soprattutto con grande affetto per le missioni free roaming cioè no le missioni c'era questa modalità tipo che tu potevi girare liberamente ma c'avevi tantissima polizia alle calcagna e ti venivano addosso facevi dei voli assurdi non c'era un sistema di collisioni di danni se non sbaglio però comunque c'era una fisica assurda poi era ambientata a San Francisco quindi era tutto un saliscendi e riuscivi a fare dei botti assurdi ogni tanto riuscivi a rompere il gioco a finire sopra i palazzi era veramente bellissimo con dei glitch assurdi capolavoro pensate ce l'avevo sealed con uno spacchetto ho preferito liberarmi del sealed e prendere invece una copia pal ita anch'essa però tenuta molto bene perché ho i sealed ve l'ho detto più e più volte non li sopporto quindi me ne volevo liberare poi abbiamo un titolo che non ho mai giocato ma perché ero troppo un pusillanime il primo dino crisis o dino crisis o dino crisis fate un po' come cacchio mi pare queste i maledetti americani pal ita tenuto benissimo survival horror nato dall'onda dell'entusiasmo dettata da resident evil però dove avere un'impostazione molto più action e poi anche un'ambientazione completamente diversa è praticamente il jurassic park crudo per adulti serie che poi è caduta in disgrazia non tutti sanno che sì c'è dino crisis 1 c'è il 2 ma poi c'è anche il 3 che è esclusiva xbox che è considerato uno dei giochi più trash della storia questo ecco è uno di quei titoli che voglio assolutamente recuperare e giochicchiare per capire insomma un po' cosa mi sono perso all'epoca poi 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 andiamo con l'icona della playstation 1 la mascotte che fu ma che poi si perse per strada parappa dei rapper i più giovani di voi la conosceranno per la statuetta che ha commercializzato nintendo qualche anno fa forse perché era anche all'interno di all stars battle royale playstation all stars ormai i titoli sono tutti si assomigliano tutti rhythm game proprio degli albori dei rhythm game con canzoni divertenti personaggi fuori di testa super colorati simpaticissimi eccetera eccetera però raga il gioco era impossibile era difficilissimo e andare a tempo era sostanzialmente impossibile mi sembra che ne esista anche una versione per psp non so se hanno risolto un po' i problemi di timing o non so se i problemi di timing ce li avevo io questo è un pal multi già solo il disco mi mette allegria il seguito si chiama un jammer lemmy ed è incentrato sulla fidanzata di parappa questo cane rapper che veramente a un certo punto era diventato una sorta di icona della prima playstation ma poi è arrivato crash bandicoot e non si è fatto più niente dimenticato ingiustamente e poi qui vi tiro fuori proprio una una chicchetta che in pochi conosceranno anzi secondo me proprio nessuno dragon valor ah e che è dragon valor della namco come vi immaginate questo gioco ragazzi perché dalla descrizione sembra tipo un open world tipo gigantesco super cazzuto in realtà ragazzi è una cosa stranissima stranissima perché poi c'è una una storia bellissima dietro praticamente è un gioco che è un action rpg in 2.5d se non sbaglio comunque a telecamera fissa scorrimento laterale però ti puoi muovere anche in profondità ok fatto a livelli quindi non ha nulla di open non ha nulla di particolare eccetera eccetera la cosa però molto figa che per l'epoca mi mi spaccava proprio il cervello è che praticamente alla fine di ogni livello potevi scegliere o in base alle scelte che facevi durante il livello tipo se liberavi un personaggio piuttosto di un altro se ne ammazzavi uno oppure se non non lo incontravi eccetera eccetera modificavi la storia perché sostanzialmente cambiavi la linea generazionale di quel personaggio quindi c'era il primo protagonista in base alle scelte che facevi nel primo livello si sposava con una tizia piuttosto che con un'altra e da quella nasceva un bambino che diventava il protagonista del secondo livello ma in base alle scelte che erano state fatte cambiavano completamente chi era il figlio e anche qual era il livello e qual era la storyline e quindi sebbene fosse un gioco poi alla fine abbastanza semplice abbastanza anche monotono ripetitivo che si completava pure abbastanza in fretta mi sembra su questo non sono sicuro però c'era questa cosa della rigiocabilità che dicevi ah ma chissà se avessi fatto quest'altra cosa cosa sarebbe successo eccetera eccetera questo forse lo giocai agli elementari quando nei primi anni di medie un mio amico mi disse no non hai capito come se ho comprato Dragon Valor tarocco ovviamente è bellissimo sto giocando lo finisco lo finisco subito gli dissi ma lo sai che sono due cd sì e lui ci rimase malissimo perché aveva comprato il la versione tarocca e gli avevano masterizzato solo il primo cd quindi mi sa che lui Dragon Valor non l'ha mai non l'ha mai finito proprio la copertina ai giochi falsissimi nelle bancarelle sì esatto sembra un png appiccicato così a caso che tra l'altro questo qua adesso si fa pagare abbastanza però è un titolo a cui cioè sono legatissimo proprio affittato per caso masterizzato giocato apprezzato tantissimo e poi anni dopo c'è questo mio amico mi disse ho scoperto sto gioco Dragon Valor bello arrivi molto 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 ritardo scegliete genitore 1 o genitore 2 genitore 2 va bene Resident Evil Prima Stampa Pal Itaspa questo mena parecchio ragazzi questo si fa non è non è così comune perché vede c'è scritto manuale in italiano e contiene manuale in castellano però poi bisognava essere sgamati e leggere sul retro contiene software in inglese abbiamo il manualozzo bianco e nero diviso spagnolo italiano tra l'altro anche qui il DualShock non esisteva sarebbe poi uscita la director's cut con il supporto al DualShock infatti esistono diverse versioni del primo Resident Evil e anche su questo ci si potrebbe fare uno shorts però penso che la DualShock version sia solo americana sapete allora di Resident Evil mi terrorizzò tantissimo per chi c'era all'epoca la pubblicità del secondo la pubblicità del secondo quando la passavano in tv cambiavo stanza infatti l'ho scelto come genitore 2 perché io in realtà storicamente sono più affezionato al genitore 1 o meglio se devo prendere il Resident Evil come li ho vissuti ho vissuto molto di più il 3 e il 2 ma più di tutti il 3 paradossalmente e l'1 solo mozzichi e bocconi poi nel corso del tempo anzi l'1 proprio adorato e stra stra giocato su Gamecube però era già un'altra cosa e poi vabbè genitore 1 a questo punto l'avrete capito ragazzi finalmente ritorna in collezione il primo Metal Gear Poro ebbè tanta roba allora questa non è la prima stampa qui c'è da fare un po' di precisazioni tra l'altro una cosa che mi fa troppo ridere l'errore che c'è sul retro non so se vedete ma dove c'è scritto resta vivo c'è vivo e poi una O con la diaresi sopra non si sa perché e poi pure Metal Gear è scritto attaccato completamente in italiano no no assolutamente non è da buttare ma ho voluto la seconda edizione la seconda stampa che non è la Platinum quella se vogliamo è la terza perché è quella che arrivava con non solo i dischi di gioco sto liberando un attimo spazio ragazzi ora vi faccio vedere ma oltre ai dischi di gioco aveva anche la demo di Silent Hill che nella prima edizione nella prima stampa non era presente questa poi ha anche il manuale di istruzioni ma adesso gli diamo uno sguardo e il catalogo 1999 Konami manca il flyer della guida strategica di Metal Gear quindi non è non è completato al 100 per poro però ragazzi mamma mia il manuale il manuale cos'era madonna cioè questo proprio mi dispiace essermelo giocato tarocco fino fino all'osso proprio il manuale era fantastico poi c'è pure tutta la parte dedicata agli artwork di Shinkawa madonna i Fox Sound guarda che roba che stile mamma mia questo è spettacolo puro ragazzi costicchia costicchia stiamo sopra tranquillamente sopra il centinaio di euro intorno al centinaio di euro poi dipende c'era anche il glossario questo me lo devo leggere per trovare tutti gli errori grammaticali e le frasi sconclusionate che avevano messo poi dipende anche in che condizioni lo cerchi questo alla fine ragazzi io con Domenico di Dottoggi sono felicissimo di fare la collaborazione perché poi quando c'è da tirare fuori il pezzone tenuto bene proprio roba da collezionisti doc ti tira fuori delle cose che mi hanno veramente senso per come sono messe bene e preferisco spendere magari quel qualcosina in più quando si tratta di giochi così importanti per per averceli messi bene avete visto alla fine non mi faccio scrupoli per i titoli a cui sono affezionato minori possono avere pure mai il libretto danneggiato la custodia spaccata sti cazzi però a sto punto se devo investire un po' di soldini su Metal Gear voglio un Metal Gear tenuto come poro comando l'avrete visto nello shorts nel reels dove toglievo gli adesivi di toy story però mi sono preso un nintendo dsi xl ci tenevo ad avercelo completo di tutto in buone condizioni non ottime non me ne frega niente questa poi è una versione che veniva commercializzata sul sul suolo italiano perché vedete c'è il software brain training c'è anche riportato in italiano dentro è completa di tutto guardate quanti manuali pazzesco roba ciccionissima e poi dentro c'è il caricatore e la console che ve la faccio rivedere sono molto felice del risultato finale alla fine guardate il venditore questa qua la metteva tipo a 70 euro a un certo punto abbassato il prezzo a 50 ho contrattato fino a 40 è sceso l'ho presa 40 euro secondo me è un ottimo prezzo pure bel colore bella 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 e risultato finale ragazzi si lo schermo non è nuovissimo è comunque un DSi usato non ci puoi fare niente ho perso un'ora e mezza a togliere adesivi però di questo sono molto fiero ma non è questo il pezzone non è questa la console dei miei sogni anche se era una cosa che bramavo da tantissimo e non volevo soprattutto rossovinaccia perché la vendono tutti rossovinaccia non so perché forse è il colore più diffuso però essere riuscito a trovare questo blu elettrico mi rende molto felice però ragazzi la console dei miei sogni è un'altra ma in realtà è sempre la stessa perché finalmente poracci e poracce ce l'abbiamo il primo DS commercializzato in Italia quello che veniva poi venduto con la demo di Metroid Prime Hunters First Hunt non è purtroppo il VIP Pack quello che comprendeva anche la demo di WarioWare e mi sembra Super Mario 64 però è comunque un pezzo di storia nintendoso tenuto molto bene non ottimo però insomma ragazzi c'è un po' di imperfezioni sta roba non si trova tutti i giorni questo spacca di brutto ci sta a dire ho trovato la console dei miei sogni l'ho trovata grazie a Leocchio Link il ragazzo che ho intervistato per sul full set dei gameboy delle console mi contatta in continuazione mi dice oh ho trovato sta cosa su Vinted lui avrà tutte le ricerche salvate quando ci dovevo fare sta cosa mi ha subito scritto mi ha detto guarda il prezzo è una bomba così non è facile trovarlo pensaci su ho contrattato e l'ho portato a casa tanta roba ragazzi mi credo che si circonda di gente e gli fa spendere i soldi questa cosa è gravissima infatti infatti dopo gli ho pure detto sei un cazzo di diavolo tentatore non scrivermi mai più vi faccio vedere com'è all'interno perché tra l'altro poi c'è anche un po' di continuità con playstation 5 perché il il DS arrivava nella stessa scatola di cartone la scatola delle uova non so se ce l'avete presente proprio come come playstation 5 la mitica scatola delle uova esatto sto cercando di non fare un disastro ok ci sono riuscito questo è il box che non c'ha bombature non c'ha non c'ha strappi non c'è niente tanta roba le istruzioni arrivavano in in due fogliettini separati nessuna di queste su questa c'è l'italiano perché comunque questi qua venivano commercializzati in tutta Europa qui abbiamo un flyer sul vediamo come calibrare il touch screen eccolo qua importantissimo poi qui abbiamo non so un telo per il mare praticamente vabbè questo qua senza che ve lo apro sto leggendo il libretto per le precauzioni sulla salute immagino ci sia roba per l'epilessia e affini iniziamo a scendere giù vi faccio vedere ora questo è il momento in cui faccio il disastro cartone cartone integro un po' acceduto ma insomma non è proprio il materiale più resistente al mondo ecco abbiamo la demo di Metroid First Hunt all'epoca veniva indicato con questo triangolo boh tra il verde e quasi giallo non saprei definirlo però è è multi la cartuccia l'ho messa all'interno del DS perché ci ho giocato ah questo è un catalogo del lancio del DS infatti c'è dovevano mettere PictoChat c'è anche Project Rub bellissimo che l'ho comprato recentemente insomma una grandissima line up di lancio ragazzi potete vedere titoli indimenticabili e poi bellissimo come non dimenticare impossibile di dimenticare Copyrights il mio gioco preferito e poi abbiamo manuali di istruzioni della demo e foglietto illustrativo delle avvertenze ma la cosa bella è che uscì che Hunters ancora non era uscito questo era il first hunt era una demo tanto che all'interno c'avevi questo disclaimer coming soon prossimamente un po' una voracciata però io di Hunters non l'avevo mai giocato ho sempre sentito parlare male in realtà si controlla molto bene sapete ci sta come fps poi abbiamo all'interno il caricabatteria quando ancora veniva dato all'interno delle console portate di Nintendo e poi abbiamo il mega maxi chunk ragazzi ne stavo parlando proprio con l'occhio l'inchio sicuramente è un design molto più figlio del suo tempo rispetto al DSi e al DS Lite però per me rimane il più bello mentre gli altri due rimangono più future proof no? cioè alla fine sono invecchiati gli altri tre sono invecchiati decisamente meglio e sembrano delle console tutto sommato moderne potresti dire che sono dei cellulari di qualche anno fa questo è invecchiato molto male con delle forme bombate stranissime degli angoli che non hanno senso però rimane troppo troppo affascinante il tank o il fat come viene come viene definito tra l'altro cerniera in ottimo stato si apre e si chiude senza problemi non c'ha strappi tanta roba e qua potete vedere come avevo detto perché ci ho giocato c'è la cartuccina di first hunt e qui poi aveva anche lo slot per la retrocompatibilità che si perdeva dal DSi in poi e non è finita qui perché poi in fondo 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 abbiamo anche lo screen protector ufficiale di Nintendo che ancora non è stato applicato per uno schermino proprio minuscolo tra l'altro ormai penso che il mio smartwatch abbia uno schermo con più pixel del DS però questa è la tecnologia questi sono passi in avanti vi faccio vedere bene il cartone di uova come in che stato è tenuto tutto sommato decente c'è qualche strappetto all'interno concludo dicendo perché ho preso tutti questi DS perché finalmente riuscirò a fare un video che sto progettando da almeno 4 anni però c'è avuto un sacco di sfighe sarà un video comparazione tra tutti i modelli di Nintendo DS un po' come ho fatto lo shorts per il Game Boy tra l'altro idea che è stata stracopiata da una grandissima testata italiana però vabbè questo è un altro discorso farò un video proprio bello approfondito dove spiego la storia del DS e faccio vedere come nel corso degli anni si sono evoluti gli hardware cosa cambia tra un modello e l'altro e ce li ho fisicamente perché ce li ho tutti e 4 quindi sarà molto molto figo poterlo fare con il DS e poi diciamo un po' il sogno sarebbe riuscire a farlo anche con il Game Boy a partire dal primo Game Boy fino al micro però là bisogna recuperare molte più cose e servono molti più soldi che al momento no no quindi per ora ce ne stiamo buonini così che ne dite eh? e questo però c'era tutto per oggi vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno non mi resta anzi degli unboxing del giorno non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà voi nel frattempo mi raccomando fate i bravi riposatevi dormendo unboxing tranquilli ma soprattutto spendete duro io sono il poro DS Michele Tank ciao ehi 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 fermo se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul porion il patreon dei poracci con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto come retroscena anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa in dimenti ecco porca cami 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 cami